mio marito è sempre che si ferma il ristorante e guarda guarda i menù guarda i locali guarda il pesce guardate che locali graziosi che ci sono a mondello proprio caratteristici colorati con tutto il pesce esposto bello bello che stai a dire che stai a dire saluta Antonio saluta a dire che la piazza è stata costruita a dire che la piazza è stata costruita a dire che la piazza è stata costruita un'altra angola un'altra angola cosa è una buona un'altra angola Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.